Da più di 30 anni la comunità Amore e Libertà opera in Italia con la casa madre a Firenze e nel mondo con la sede più grande a Kinshasa dove seguiamo con varie case più di 80 mila persone e noi cerchiamo di dare futuro, questo immagino al futuro, futuro e speranza a bambini e bambine partendo dai 15 mesi fino ai ragazzi che poi crescono, diventano maggiorenni per dare le opportunità nella vita che noi tutti abbiamo avuto perché è un'ingiustizia che tanti giovani venga negato un futuro e quindi se vuoi collaborare e diventare anche tu protagonista di questo futuro nuovo che vogliamo costruire basta un sms al 455 45 di 2 Euro o dal telefono fisso di casa sempre al 455 45 5 10 Euro, il tuo piccolo gesto farà una grande differenza, aiutaci, coraggio. Don Milani è fondamentale nel mio cammino, nella vocazione ma soprattutto nell'aprire scuole nella borgata Alessandrina a Roma quando ero giovane ma soprattutto adesso a Kinshasa in Kinshasa abbiamo avuto una parrocchia, una zona come ho detto di 80 mila abitanti dove non c'era una scuola che futuro può avere un paese se i figli dei poveri non hanno la parola, non hanno la scuola e quindi noi alunno dopo alunno, classe dopo classe, prendendo i bambini per la strada offriamo a 900 bambini privi di tutto, privi dell'istruzione e la possibilità di una scuola di qualità.